ehi quinta arca bentornati bentornate stasera finiamo il programma di matematica di quinta e quindi tutto il quinquennio del liceo scientifico che avete seguito finora in particolare stavamo vedendo insieme se vi ricordate la geometria analitica nello spazio e abbiamo visto praticamente tutto manca l'ultimo pezzettino l'ultimo tassello e poi dopo ci siamo allora della geometria analitica nello spazio abbiamo visto i concetti di punti abbiamo visto i vettori tramite punti vettori siamo riusciti a entrare come dire in contatto con le rette abbiamo potuto dare una definizione di rette tutte le varie proprietà e anche alcuni esercizi di intersezione parallelismo abbiamo visto le rette sghembe e quant'altro e i piani e anche in questo caso intersezioni col prodotto vettoriale contatto che ne abbiamo visto tutti gli elementi principali della geometria analitica nello spazio rimane come ultimo elemento chiaramente ce ne sono molti altri si possono fare nello spazio moltissime cose così come si fanno nel piano si potrebbero studiare superfici non piane piuttosto interessanti come paraboloidi, perboloidi, tori o altre superfici di interesse anche in fisica ma di tutte vedremo soltanto le sfere quindi aggiungiamo a quanto fatto finora le sfere come è possibile determinare l'equazione di una sfera nello spazio? beh è abbastanza semplice immaginiamo di avere il centro ok? che avrà coordinate x con c, y con c e z con c e la sfera è definita come il luogo geometrico dei punti dello spazio che sono equidistanti dal punto fisso detto centro c immaginiamo di dare come questa distanza r quindi il raggio quindi il punto p appartenente alla sfera ha come proprietà quello di avere la distanza dal centro pari ad r ok? quindi p c uguale ad r ma la distanza tra il punto p generico di coordinate x, y, z e il punto c di coordinate x, y, z, c è data per lo stesso motivo per cui in due dimensioni la distanza tra due punti quindi se questa è la differenza delle x e questa è la differenza delle y costruendo un triangolo rettangolo abbiamo che questa distanza è la differenza delle x al quadrato più la differenza delle y al quadrato sotto radice la stessa cosa avviene in tre dimensioni immaginatevi di avere due punti ok? allora i punti hanno tre coordinate però proiettiamo per esempio sul piano z su un piano parallelo al piano z quindi consideriamo solo le coordinate x, y troveremo ok? la proiezione quindi questa distanza esattamente nello stesso modo e una volta che abbiamo trovato questa per arrivare alla distanza vera e propria useremo delta y ops, scusate delta y quadrato più delta z quadro ok? mi è un po' difficile fare disegno in tre dimensioni proviamo così immaginiamo di avere un cubo così più facile da rendersi conto ok? immaginiamo che questo sia un punto di coordinata appunto x, y, z e questo punto qua aumentiamo la x di delta x la y di delta y e la z di delta z quindi questo sia un punto di coordinata x più delta x y più delta y e z più delta z e immaginiamo di voler trovare questa distanza qua, no? che è la diagonale del cubo allora cosa faccio? beh, potrei fare così prima trovo questa distanza qua e questa distanza qua in questo caso allora ho proiettato se questa era la y beh, possiamo anche prendere che questa sia la z ma insomma non ha importanza questa distanza qua sarà la differenza delle x quindi delta x al quadrato più immaginiamo che questa sia la y allora e questa sia la z vediamo se è un sistema x se questa è la y z no, facciamo che x, y scusate, sto cercando ok questa è la x questa è la y e la z è messa così in questo modo abbiamo un sistema destrorso e allora qui siamo sul piano x, z quindi chiaramente la distanza tra questo punto e questo punto se ci pensate questo punto avrà coordinate x più delta x la y è la stessa perché no, scusate questo ho detto una stupidaggine questo è il piano y, z quindi la coordinata x di questo punto ok se la x è questa è la stessa quindi è x y più delta y z più delta z ok allora se immaginiamo di considerare questo come un segmento in un piano dobbiamo considerare questi due cateti che sono delta y e delta z e quindi questa distanza qua che ho puntato qui sarà radice di delta y più delta z al quadrato entrambi a questo punto per trovare quest'ulteriore considerate il triangolo costituito da questo lato che abbiamo appena trovato e questo lato che è delta x ok e questo è un triangolo rettangolo e quindi possiamo usare Pitagora anche in questo rettangolo quindi sarà il quadrato che questo che prima non è ipotenusa diventa il cateto quindi il quadrato di questo più il quadrato di questo sotto radice e otteniamo esattamente questo risultato scusate per la confusione x y z ma come vi dicevo fare disintredi non è proprio il massimo no? bene quindi possiamo generalizzare la formula per la distanza eclidea anche nel caso dello spazio semplicemente abbiamo la differenza della x della y della z al quadrato sommate sotto radice bene allora questa equazione diventa la radice di x meno x con c al quadrato più y meno y con c al quadrato più z meno z con c al quadrato uguale a r notiamo che questa è una grandezza sicuramente positiva perché somma di tre quadrati positivo al massimo zero ma è comunque somma di tre quadrati r per definizione è un numero maggiore di zero quindi possiamo arrivare al quadrato questa espressione ottenendo c al quadrato più z meno z con c al quadrato uguale a r al quadrato questa è l'equazione di una sfera o meglio della superficie della sfera quindi una superficie sferica nello spazio in cui siano noti le coordinate del centro questo è il centro e che è un punto e il valore che è un numero positivo del raggio oddio potrebbe potrebbe anche avere raggiù pari a zero in quel caso chiaramente esiste un unico punto che soddisfa questa equazione che è appunto il centro quindi sarebbe una sfera del genere va bene questo se ci pensate bene è esattamente quello che abbiamo visto in terza per le circonferenze l'equazione di una circonferenza solo che qui abbiamo in più il termine z volendo possiamo esprimere questa in un modo diverso eleviamo facciamo quindi i quadrati dei tre binomi e mettiamo prima i termini quadrati poi i doppi prodotti poi le costanti quindi sviluppando i quadrati otteniamo x quadro più y quadro più z quadro poi abbiamo i doppi prodotti quindi meno 2 x con c x meno 2 y con c y meno 2 z con c z e poi abbiamo i quadrati delle coordinate del centro quindi più x con c al quadrato più y con c al quadrato più z con c al quadrato portiamo il raggio al quadrato a sinistra diventa meno r quadro uguale a zero allora se voi chiamate questo termine a questo termine b questo termine c compreso anche del segno e tutto questo termine lo chiamate d l'equazione di una circonferenza si può anche scrivere x quadro più y quadro più z quadro più ax più by più cz più d uguale a zero e questa è l'altra forma in cui si può come dire scrivere l'equazione di una circonferenza nello spazio scusatemi di una sfera superficie sferica nello spazio notate che così abbiamo anche un legame se vi danno l'equazione di una superficie sferica nello spazio vi danno non so chi perché l'esame non ci sarà lo scritto ma so se qualcuno all'orale vi dovesse chiedere di fare un esercizio sulla superficie sferica nello spazio o comunque chi di voi proseguirà studi di tipo scientifico da questa posso risalire al centro al raggio in particolare vedete subito che la x del centro è dato da meno a mezzi la y del centro meno b mezzi e la z del centro meno c mezzi esattamente come succedeva per le circonferenze nel piano mentre il raggio lo si vede da qui una volta che avete trovato x con c y con c e z con c vedete che il termine d è questa somma di quadrati viene il raggio quindi possiamo dire che il raggio è la radice di x con c al quadrato più y con c al quadrato più z con c al quadrato meno d quindi se vi danno le coordinate del centro e il raggio potete scrivere l'equazione in questa forma e poi sviluppando arrivare a questa forma qua se invece vi danno l'equazione della sfera in questa forma con l'abc e il d tramite queste tre trovate le coordinate del centro e poi trovate le coordinate del centro e con il termine noto d trovate anche il raggio ok e quindi queste due espressioni sono intercambiabili per rappresentare la superficie di una sfera nello spazio cos'altro dire per quanto riguarda la sfera beh un tipico problema è il piano tangente a una sfera no cioè supponiamo di avere una sfera e di voler determinate dato un punto sulla sfera il piano tangente la cosa è abbastanza semplice perché basterà se questo è il centro e questo è il punto che stiamo considerando chiamiamolo q considerate il vettore cq quindi il vettore cq vi ricordo che lo possiamo scrivere come q meno c ok questo vettore chiamiamolo v ok e avrà quindi tre componenti vx vy vz che non saranno altro che la differenza delle coordinate x dei punti q e c y dei punti q e c e z dei punti q e c quindi abbiamo le coordinate di questo vettore per motivi noti dalla geometria elementare questo vettore qua se lo rappresentate con la coda sul punto q questo vettore qua è normale al piano tangente quindi questo vettore sarà normale al piano tangente noi sappiamo che un piano di cui conosciamo il vettore normale è nella forma vx x più vy per y più vz per z più un termine noto chiamiamolo k uguale a 0 cioè avendo trovato con q meno c il vettore normale al piano il piano avrà sicuramente questa forma vx per x più vy per y più vz per z rimane da determinare k basterà imporre il passaggio del piano per il punto q cioè basterà imporre che q appartenga al piano questo sostituendo le coordinate al posto di x y z le coordinate di q vi permette di trovare k ok quindi trovare un piano tangente a una sfera in un dato punto è una cosa abbastanza semplice non ci sono altre grosse complicazioni in vista va bene e questo più o meno esaurisce abbiamo già fatto un po' di esercizi presi dalle prove ESC degli anni scorsi durante gli sportelli ELP se vi ricordate la settimana scorsa l'abbiamo fatto come esercizio accademico visto che non ci sarà una prova ESC quest'anno scritta ma noi siamo interessati a queste cose indipendentemente dall'esame e quindi questo chiude la geometria analitica nello spazio per quanto mi riguarda considero quindi terminato il programma di matematica ok oggi è il 29 aprile quindi con un mese di anticipo rispetto io normalmente finisco il programma di matematica in quinta verso metà maggio chiaramente ho finito il programma di matematica perché ho fatto cose in meno ma nella mia idea o meglio nella mia speranza non vi ho tolto nulla che non sia culturalmente rilevante e anche effettivamente rilevante cioè cose che potreste trovare per esempio nei test di emissione ho tolto alcuni dettagli alcune complicazioni alcune questioni che normalmente in classe affronto e che quest'anno ho evitato va bene cosa facciamo il prossimo mese non è che rimaniamo con le mani in mano intanto dobbiamo portare avanti il discorso di fisica introducendo la fisica quantistica e mettendo insieme un po' di discorsi sulla fisica del novecento abbiamo finito la relatività e adesso ci rimane la fisica quantistica e questo già è un buon impegno da portare avanti per quanto riguarda matematica vorrei incominciare a partire da domattina ci vediamo domattina vi ricordate dalle dieci alle undici in sportello help in videoconferenza vorrei incominciare a parlare della matematica di tutto il programma di matematica che abbiamo visto quest'anno nella prospettiva di un colloquio e quindi mi piacerebbe incominciare a trovare intanto come dire rivedere con voi a partire da domani tutto il panorama di quinta quindi tutto quello che abbiamo visto quest'anno di matematica possibilmente collegandolo anche alle cose fatte in quarta e in terza perché come sapete non c'è come dire una divisione anno per anno è tutto collegato quindi rivedere insieme a voi un pochettino tutto quanto quello che abbiamo visto in questi ultimi diciamo tre anni non nei dettagli sto parlando di come dire da una quota piuttosto alta vedere la visione di insieme cercare di inquadrare tutto quello che abbiamo visto nel contesto di un colloquio soprattutto aggiungo questa dicitura pluridisciplinare la maggior parte delle cose viste quest'anno avevano a che fare con per esempio le funzioni reali e quindi con l'idea di continuità della retta reale e questo aspetto ha degli agganci con per esempio la filosofia che state facendo in questo momento e la storia in generale della matematica tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento lo sviluppo del concetto di numeri reali di continuità e quant'altro ok? quindi cercare di dare anche un contesto non solo matematico ma anche storico perché no anche filosofico a quello che abbiamo visto eventualmente individuare dei nodi concettuali uno l'ho appena nominato il concetto di continuità concettuali su cui poter poi concentrare un pochettino la nostra analisi non più specificatamente tecnica ma con un respiro un po' più amplo da colloquio di persona matura che è in grado di parlare di quanto ha appreso quindi non ripetere formulette o saper svolgere esercizi uguali a quelli che ha visto per cinque anni ma fare il punto ok? di quello che è stato fatto e visto nel contesto di un colloquio che si può collegare a diverse materie ok? questo è una cosa che vorrei fare nelle prossime settimane in più vi ho anche promesso farò una introduzione ma proprio minimale sia per motivi di tempo ma anche soprattutto di competenze non sono sicuramente un esperto non sono esperto di niente tanto meno di questo ma insomma ho studiato e posso studiare ancora un po' per venirvi in conto visto che mi avete chiesto un'introduzione alla crisi dei fondamenti crisi dei fondamenti diciamo nel periodo 1900 1930 1935 ok? quindi dal congresso di Parigi Hilbert fino a Gödel questo perché mi avete detto ne avete accennato con la vostra insegnante di filosofia e quindi mi sembra un buon punto su cui ecco portare anche il nostro contributo dal versante della matematica cos'è successo in quei 30 anni in un bel libro di Gabriele Lolli che si intitola appunto La guerra dei 30 anni viene illustrata proprio la difficoltà di quegli anni che è in parallelo a quello che abbiamo già visto sta succedendo in fisica nel periodo che stiamo studiando dal 1905 al 1915 la relatività prima speciale ristretta e poi generali di Einstein e adesso vedremo dal 1900 fino al 1900 anche in questo caso un po' oltre il 1930 lo sviluppo della fisica quantistica così come oggi la conosciamo quindi è una crisi dei fondamenti in matematica che è parallela a quella che è una crisi dei fondamenti in fisica ma che è però alla fine una crisi dei fondamenti in generale nel panorama filosofico e culturale del novecento quindi cercheremo di dare anche una impostazione di questo tipo quindi da un punto di vista tecnico abbiamo finito faremo ancora esercizi su questo non ci piove mi piacerebbe fare ancora un po' di esercizi su equazioni differenziali ma li faremo applicati anche alla fisica equazioni differenziali funzioni limiti ancora qualche integrale qualche calcolo di volume ok e da qui all'esame vedere questi questi punti che sono un po' più di ampio respiro che sono poi quelli che in qualche modo vi dovranno vedere preparati e preparate nel colloquio perché l'ho detto tante volte l'ho detto prima della pandemia e lo ribadisco a maggior ragione adesso non mi interessa molto che voi mi dimostriate di essere dei bravi applicatori non dobbiamo fare un esame di ingegneria molti di voi lo faranno ma lo faranno dopo con altre persone più competenti dopo aver seguito dei corsi decisamente migliori di quello che ho potuto fare io in questi cinque anni anzi tre perché vi ho preso dalla terza non mi interessa tutto questo quando faremo il colloquio dell'esame conclusivo mi interesserà sentirvi parlare e non sentirvi parlare dell'ultimo film che avete visto anche se vi interessa mi interessa molto ma sentirvi parlare di matematica e mi interesserà molto mi piacerà molto sentirvi discutere di matematica all'interno di un contesto più ampio va bene bene per ora è tutto vi saluto buonanotte a tutti e a tutte arrivederci